Ciao a tutti amici di TecnologiaSumisura.net, benvenuti in questa terza parte della serie su come configurare la propria stazione multimediale. In questa terza parte vedremo la procedura per configurare correttamente una Sky Digital Key e quindi permetterci di registrare e vedere il digitale terrestre comodamente dal nostro computer. Come vedremo questa guida varrà anche per il prodotto Avermedia A867. Apriamo in terminale con la scorciatoia CTRL-T oppure in alternativa basterà scrivere terminale dal pulsante di ricerca e quindi cliccare sull'icona relativa. Adesso digitiamo il comando lsusb e questo ci permetterà di visualizzare tutti i dispositivi USB collegati al nostro computer per verificare che la chiavetta Avermedia sia rilevata correttamente dal sistema operativo. Come vedete è subito la prima voce e appunto non è chiamata Sky Digital Key ma col suo nome vero e proprio cioè che è un prodotto Avermedia che poi Sky ha ribrandizzato possiamo dire. Dopo aver capito che il sistema operativo riconosce chiaramente la chiavetta Avermedia non dovremo far altro che configurare il driver in modo tale che i programmi ci permettano di registrare e visualizzare il digitale terrestre correttamente. Però prima ci teneremo ad aprire una piccola parentesi proprio perché abbiamo realizzato delle guide sul nostro sito non solo per rendere questa chiavetta compatibile con Linux ma anche su Mac e su Windows. E per farvi vedere queste guide mettiamo il link alla nostra pagina sulla descrizione del filmato. Ora ritorniamo alla configurazione del driver non dobbiamo fare altro che aprire le risorse del computer perché nella cartella scaricati abbiamo già copiato il file binario che sarà quello fondamentale per eseguire una corretta configurazione. Come potete vedere andiamo in scaricati e questo è il file che dovremo copiare. Dovremo copiarlo in una cartella apposita quindi clicchiamo e apriamo la nuova finestra in computer quindi clicchiamo su lib e poi firmware. Per rendere la chiavetta operativa quindi dovremo semplicemente copiare quel file binario .fv all'interno di questa cartella firmware. Tuttavia non è un'operazione proprio così banale perché non basterà trascinare come state vedendo il file poiché questi qui sono file di sistema e quindi sono protetti dalla scrittura. Per farlo dovremo eseguire questa operazione da terminale quindi apriamo una nuova interfaccia terminale giusto per essere ordinati e cominciamo digitando il comando sudo che indica super user do e quindi ci permetterà di avere i privilegi di amministrazione. Successivamente scriviamo cp che indica il comando copia e quindi inseriamo la sorgente del file da copiare quindi scriveremo .scaricati adesso ci siamo sbagliati a scrivere invece di scriveremo su terminale ok scriviamo .scaricati facendo attenzione a rispettare le maiuscole perché linux è molto severo da questo punto di vista e quindi scriviamo il nome del file e a questo punto abbiamo copiato l'indirizzo del file sorgente da copiare. Lasciamo uno spazio e quindi scriviamo l'indirizzo della cartella in cui vogliamo copiare questo file quindi .slash lib firmware Premendo invio ci verrà chiesta la password di amministrazione che abbiamo impostato nel primo passaggio di questa guida quindi nel nostro caso Valerio. Se non vengono riportati particolari errori significa che l'operazione è stata eseguita correttamente quindi potremo comunque verificare che il trasferimento è stato completato andando nella cartella firmware in lib. A questo punto non dovremo fare altro che riavviare il computer per rendere le modifiche operative. Abbiamo appena completato il review del sistema operativo e se abbiamo eseguito tutto correttamente la Sky Digital Key noteremo che si illuminerà di una luce azzurra. Se invece non si illuminasse vuol dire che abbiamo sbagliato qualcosa nei passaggi precedenti. Comunque adesso viene sicuramente la parte più facile cioè quella di installare un programma apposito che ci permetterà di vedere il nostro digitale terrestre. Quindi torniamo in Ubuntu Software Center e nella barra di ricerca scriviamo Caffeine con la Capp. Ci comparirà un unico risultato che è appunto questo. Quindi installiamo il programma. Digitiamo la solita password di amministrazione e aspettiamo che il programma completi la sua installazione. A installazione completata possiamo immediatamente avviare il programma. Vediamo che l'interfaccia è molto semplice quindi vediamo diverse voci ma non interessa cliccare sulla voce TV digitale. Clicchiamo e adesso clicchiamo per cominciare la configurazione su questa specie di chiave inglese. Cioè configuriamo la nostra televisione. Vediamo dalle opzioni generali che ad esempio è possibile impostare una cartella dove verranno salvate automaticamente tutte le nostre registrazioni. Naturalmente potremo anche modificare la cartella. A noi interessa entrare nella voce dispositivo 1 per selezionare la sorgente quindi facciamo attenzione a selezionare IT All in modo che avremo accesso a tutti i principali canali visibili dal digitale terrestre italiano. Potremmo assegnargli un nome, nel nostro caso va benissimo terrestre che è quello assegnato di default dal programma. Quindi premiamo OK e adesso clicchiamo su questa voce che si chiama Canali e una volta selezionata la voce sorgente terrestre avviamo la scansione e aspettiamo che la sintonizzazione arrivi al 100% e si completi. Come per un decoder convenzionale è necessario attendere qualche minuto prima che la sintonizzazione sia completata. Quindi mancherà ancora qualche secondo abbiamo deciso di tagliare tutta la parte centrale di questa sintonizzazione per non annoiarvi troppo. OK Quando si torna al 0% vuol dire che la sintonizzazione è completata. A questo punto abbiamo tutta la lista dei risultati e dovremo scegliere quali canali assegnare al nostro programma. Quindi potremo aggiungerne uno a uno premendo su aggiungi selezionati ad esempio oppure aggiungere tutti i canali filtrati attraverso l'apposito filtro. Ad esempio a noi interessa aggiungere solo le televisioni e non le radio e selezionare per fornitore le frequenze insomma. Quindi una volta che abbiamo aggiunto tutti adesso vi mostriamo un po' la lista che comunque sono tutti i canali principali e quindi possiamo premere la conferma. A questo punto potremo guardare la nostra televisione correttamente. Qui non si vede ancora la guida dei programmi la vedremo successivamente. Comunque premiamo su Rai Scuola ad esempio e vedete che si vede perfettamente come sulla televisione. Con la differenza ricordiamo che sarà possibile registrare tutti i programmi in ogni momento o addirittura programmare le registrazioni. Dando il doppio clic naturalmente si potrà vedere la trasmissione a schermo intero. Adesso facciamo un po' di zapping giusto per farvi vedere anche la reattività del programma e la qualità con cui si vede la televisione. Ecco come vedete vi dà proprio anche gli aggiornamenti sui vari palinsesti. Sarà possibile pianificare una registrazione adesso non lo facciamo ma solo per farvi vedere un esempio basta selezionare il programma un orario dirgli con quale pianificazione appunto si vuole registrare se tutti i lunedì a una stessa ora ad esempio. mentre premendo sul pulsante questo qui a forma di floppy disk si potrà registrare invece in tempo reale senza appunto pianificare. Adesso la guida tv si sta già scaricando e come vedete è possibile consultare i palinsesti in ogni momento e addirittura registrare direttamente dai palinsesti in modo molto semplice e molto intuitivo. A questo punto chiudiamo il programma vi abbiamo mostrato una buona panoramica pensiamo ma giusto per farvi vedere la registrazione che abbiamo effettuato. Infatti abbiamo registrato una parte di quel programma su DMAX e cliccandoci potrete vedere il file registrato in formato M2T adesso cerca di scaricare i sottotitoli abbiamo annullato l'operazione e come vedete la registrazione è perfetta. Bene abbiamo concluso anche questa terza parte dedicata interamente alla Sky Digital Key speriamo che questa serie complessivamente possa interessarvi ci rivediamo nel prossimo episodio nel quale tratteremo l'installazione del server SSH non mi resta che mandare un saluto a tutti un saluto da Valerio e dallo staff di TecnologiaSumisura.net